se siete qui è perché avete letto il titolo e vi do 30 secondi per lasciare il vostro commento negativo senza sentire le mie ragioni e addio mentre per gli altri vi godrete il mio sfogo andiamo tutti ad osannare kojima come un genio alcuni mi hanno spiegato il motivo del perché lo adorano lo adorano perché ha innalzato il medium al pari di un film hollywoodiano mixando perfettamente il videogioco con narrativa cinematografia rubo mai raggiunta prima vi posso dar ragione per metagare solid to anche per il 2 e il 3 ma anche per polisnaut ma dal 4 il vostro genio è iniziato a non saper più miscelare narrativa con gameplay io ho giocato il 5 il 4 lo sono giochicchiato lo ammetto perché mi ero mi ero fatto prestare la precision 3 mi sono cascate le palle ho preferito giocare a giochi più semplici come uncharted e ivy rain nel 5 mi sono trovato anche nel 4 a subirmi queste cazzine che sembravano film si avete sentito bene sorbirmi non godermi perché le ho trovate frustranti e la narrativa nell'ultima opera di kojima ha smesso di essere parte di gameplay ma è a sé stante e spuria le cazzine ti toccava subirle senza che tu le volessi questo pippone di cazzine di una palla di una palla che non si può fosse un film sarebbe una bella regia ma io cacchio voglio giocare non voglio guardarmi la cazzine ma poi per giunta l'infame me le metti all'infame le cazzine controvoglia non erano amalgamate con il gameplay con la storia sembra quasi un'imposizione è veramente pesante per qualcuno che sperava di giocare in un videogioco ditemi quello quello che volete ma i gameplay di metaglia solid 5 anche soprattutto i death stranding non sono nulla di così innovativo mai visto cioè ti subisci delle cazzine non hai neanche un gameplay fantastico epico cioè splinter star blacklist e hitman absolution hanno meccaniche stealth superiori ma porca puttana e quindi mi domando perché dare tutta questa importanza a kojima e non darla a quelle di remedi 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 fissatelo nelle orecchie remedi un'azienda di sviluppo di videogiochi finlandese nata inizialmente come un gruppo di programmatori della demon scene di commodore 64 per chi non lo sapesse remedi sono i creatori di max pain hell and wake quantum break control che sono dei capolavori del mondo videoludico delle pietre migliari ogni titolo ha portato il medium videoludico a fare un passo più avanti perché non sono considerati geni perché nella cultura pop dei videogiochi sam lake non è un dio eppure anche sam lake è uno che non capisce un cazzo di videogiochi diciamo però è più appassionato di cinema infatti i giochi della remedi sono cinematografici ma cinematografici per davvero cioè amalgamano il gameplay alle sezioni cinematografiche le parti cinematografiche sono intersecate benissimo nel videogioco e ti trasportano nell'avventura ti trasportano al gameplay ciò che Kojima non fa più da anni che si è seduto sui suoi allori di voi fan fanboy del cacchio e lo devo dire perché quella è la verità che lui se ne sbatte ormai di fare i videogiochi perché sa di essere popolare voi fan vi sorbireste qualsiasi prodotto di merda vedi Death Stranding osannandolo ok vi spiego nel dettaglio partiamo da Max Payne perché Max Payne è grandioso Max Payne è una pseudo poliziesco hardboiled cioè è proprio quello lo stile del film di Max Payne e le cutscene sono semplicemente narrate ma queste cutscene che sono fantastiche che sono cinematograficamente fantastiche ti trasportano al gameplay ti trasportano al gameplay non le subisci ti trasportano al gameplay per chi ha visto un poliziesco sa bene che c'è una trama che è una scusa per vedere le sparatorie effettivamente Max Payne è quello ha una trama che ti dà una scusa per vedere delle sparatorie arcade ignoranti e le sparatorie hanno un'innovazione del secolo il bullet time bullet time i rallentamenti che vedete ormai in tutti i videogiochi ormai che sono standard di fabbrica in tutti i videogiochi il bullet time il rallentamento all'ultimo colpo anche il rallentamento nel combattimento è stato inventato da Remedy Remedy quindi Remedy ha inventato ha mischiato il medium cinematografico a una meccanica di gameplay innovativa passiamo al successivo Alan Wake Alan Wake è il primo titolo che è strutturato come una serie televisiva molto stile Timpix dove la mattina muovendo il personaggio vivi la storia cinematografica mentre la notte giochi il gameplay anche stavolta è innovativo perché c'è la meccanica della luce e della torcia per ammazzare i nemici che i nemici senza luce sono invulnerabili se li spari addosso la luce diventano vulnerabili quindi c'è una meccanica di gioco che richiede le tue skill ed è innovativa cacchio e come al solito le sezioni cinematografiche da serie tv ti trasportano al gameplay non le subisci tu sai quando starà per partire sai il perché sta partendo e te la godi te la godi non soffri come soffri con Kojima passiamo a Quantum Break Quantum Break vi faccio vedere un po' di recensioni quelle grandi testate giornalistiche italiane che hanno dato nuove a Death Stranding nonostante nella recensione dicono che sia noioso cosa dicevano di Quantum Break e cosa penso io di Quantum Break e penso che lo pensate voi chiunque di voi abbia giocato a Quantum Break Quantum Break faceva un altro esperimento passava oltre alla serie tv giocata metteva proprio degli episodi di 30 minuti con attori in carne e ossa e soprattutto era anche ben fatta ben fatta la serie tv cioè è come al solito ti trasportava tra un capitolo e l'altro e tu sapevi che stava partendo e potevi decidere se andare a pisciare cagare mettere in pausa o schippare la serie tv era lì e potevi guardarla quando volevi intanto avevi finito un livello che cosa voler di più e torniamo anche a ambito gameplay anche in Quantum Break Remedy fa fare un salto in alto al video e a un video ludico inventando le coperture dinamiche così tanto denigrate nelle recensioni cioè cacchio è un'invenzione la copertura dinamica non è un problema è un'invenzione sarà grezza ancora però è un'idea nuova perché effettivamente è una rottura di coglioni fare ancora la meccanica inventata da Cliffy B di spingere il bottone per mettersi in copertura è il più sensato come avrebbe nella realtà che chi sta sparando si vada piano piano a piegarsi sotto la copertura quindi è un'innovazione che è stata poi ripresa da Mass Effect Andromeda ma poi più da nessun altro io spero TPS moderni pure Gears riprendetela questa meccanica non può morire in quantum break è un'altra meccanica che fa fare un salto al videogioco e mi fermo qua con Remedy per farvi capire la qualità di Remedy perché Remedy è veramente geniale è veramente geniale come voi dite di Kojima perché mischia gameplay innovativo in ogni titolo in più con una narrativa cinematografica della madonna per non parlare di tutti gli easter egg delle tv delle serie tv dentro al videogioco cioè non finiamo più la qualità cinematografica dei giochi Remedy e contro non vi parlo perché non l'ho ancora giocato sto aspettando che esca su Steam oppure lo acquisterò su Epic quando Epic diventerà un launcher decente però che dire basta basta con Kojima genio per minchiate Kojima l'unica cosa geniale è che è una rockstar ma vi dico io perché dovrete adorarlo Kojima perché era una rockstar e se ne fotte degli standardi dell'industria videoludica fa il cacchio che gli pare nelle sue opere dà messaggi ben più complessi di quelli che vedete voi banalotti come in Death Stranding ho visto Sabaku fare delle pippe mentali su Death Stranding puoi dire una banalità assurda mentali ma praticamente sono le robe che Kojima ti dà in pasto non è il retroscena del significato sottinteso sarò che io sono vero fan di Kojima e ho capito conoscendo quanto testa di cazzo sia Kojima in lato positivo però lo state considerato genio per delle cose che non gli spettano buttatevi nelle braccia di Obsidian di Remedy ma smettetela di osannare una persona che è un game designer normale come tutti gli altri e questo si fa si arriva a questo quando si cerca di essere talmente originali da risultare minchioni questa è una cosa alla prossima Grazie a tutti.